Contava tra le altre cose il problema non solo della stadiazione secondo EGCC 2009 ma anche del trattamento. E in generale qual è l'obiettivo che noi abbiamo nel melanoma metastatico, cioè il quarto stadio? Ovviamente il primo è indurre remissione o almeno stabilità, mantenere e consolidare l'eventualmente ottenuta remissione e stabilità e migliorare soprattutto la sopravvivenza globale della malattia. E qui vedete, non sto a andare nei dettagli, vedete solamente che il riferimento fino a oggi è la monochemioterapia, la Dacarbazina tutt'oggi è il farmaco di riferimento che in qualunque studio di fase terza viene impiegato anche se devo dire che di fatto nella pratica è stata abbastanza soppiantata dalla fotemustina e dalla temozolomidea orale che è un profarmaco della Dacarbazina. Comunque sia vedete che le risposte, le percentuali di risposte variano molto da studio a studio. è chiaro che l'approccio monochemioterapico è sicuramente, in una malattia come questa, il più sensato fino ad oggi, fino al 2010, come diceva Chiara. La policemioterapia ha senso e aveva senso e forse continuerà ancora per un po' a aver senso solo quando c'è da ridurre rapidamente una massa di malattia, quindi non con l'obiettivo eroico di stabilizzare, di cronicizzare, che è un po' la parola d'ordine, di oncologia medica e non solo, ma da ridurre, da alleviare i sintomi o comunque da permetterci di giocare la partita, come si dice in cerco. E qui vedete un po' alcuni punti. Al 2010 nessuna terapia prolunga significativamente la sopravvivenza. Si parla di sopravvivenza a tre anni che vale andare al 5 al 10%. Nessuno dei trattamenti a oggi, 2010, disponibili ha dimostrato un impatto sulla sopravvivenza libera dalla malattia e soprattutto sulla sopravvivenza globale, che è quello che ci interessa, della monochemioterapia. La dacalbazina, come ho detto, è stata oggi, fino ad oggi, il farmaco di riferimento. Viene più usata, direi, abbastanza diffusamente la fotemostina, come soprattutto per la sua, diciamo, ipotizzata e certamente in parte vero ritardo della comparsa di metastati cerebrali, oppure lo stesso, la temozolomide, che è un profarmato della dacalbazina che si diffonde a livello, passa la barriera emetroncefarica. E quindi le risposte a questa domanda sono di quanto le nuove terapie hanno cambiato la prognosi e quali sono e come agiscono, quanto significativo il vantaggio e come combinarle. Questo sarà l'ultimo punto. Tra queste io le ho chiaramente schematizzate e sicuramente l'elenco non è assolutamente completo, però comunque dobbiamo dire che certamente, come voi sapete, quelli che sono i farmaci hanno ottenuto l'indicazione EMEA, sono il Vemurafenib, il capostipite degli inibitori del birafne con una specifica mutazione e sul versante immunologico l'ipilimumab, l'anti-CTLA4. Però brevissimamente parliamo del primo punto, cioè i farmaci anti-angiogenetici. Qui vedete in una review che sono elencati i risultati degli studi. Non so perché questa via si è esaurita, quantomeno come entusiasmo, abbastanza precocemente. Credo molto per l'avvento degli altri due farmaci. Detto questo, l'anti-angiogenesi, come abbiamo sentito da Vincenzo, in modo tra l'altro molto più tranquillo e anche meno costoso, rimane un caposaldo. Quindi forse questa strada è stata abbandonata perché, come sempre, le leggi del mercato ci dicono che effettivamente siamo arrivati a un punto in cui due anni fa, nel 2010, c'erano più studi clinici quasi che pazienti. Quindi questo è un po' un problema che riguarda la medicina moderna, riguarda la necessità di obiettivare quello che si dice. Una volta si diceva io, nella mia esperienza, oggi per Renacchia a tutto spiano e comunque credo che sia giusto così. L'oncologia è un campo in cui la ricerca dell'evidenza è forse iniziata prima di tutti. questo studio, che è un studio di fase seconda, che è stato su 18 pazienti, che è stato interrotto all'interim analisi dopo 18 mesi perché non si era raggiunto la percentuale di risposte richiesta, cioè dovevamo avere un overall response rate, nel senso risposte almeno parziali nel 50%, quindi non è stato raggiunto. Io posso dire che noi abbiamo messo dentro due pazienti dei quali una risposta completa e due parziali e una parziale sono quelle ottenute, ma per puro caso ovviamente, un po' di nulla, per dire che è un peccato perché probabilmente con un numero di pazienti più alto forse si poteva ottenere di più. Comunque chiaramente anche qui Roche ha deciso di investire su qualche cos'altro, mi pare che forse abbia avuto anche ragione. Quello che mi interessava chiarire è che comunque, a parte ottenere stabilizzazione, un numero abbastanza importante di pazienti, si vede la rossa? Sì, si dovrebbe vedere. Comunque li vedete, due risposte parziali e una completa. La ricerca traslazionale, che è l'altra parte importante, ha fatto vedere che la terapia di combinazione ha un effetto in dubbio sulla capacità del vascular endotelial growth factor, sia la forma A che la CI, di creare nuovi vasi. Quindi certamente è un dato interessante. Veniamo poi ora agli inibitori delle proteine inchinasi, perché si parla forse di quella che è la terapia che oggi va per la maggiore. Come vedete il Vemuraf inibere il capostipite, inibisce, diciamo, incapace di inibire l'attività di BRAF nei mutati, soprattutto con questa mutazione, scusate, con questa mutazione con la V600. E più recentemente vedremo che c'è un buon lavoro, un bel case report pubblicato dall'amico Giovanni Pellacani e del suo gruppo. Questo di seconda generazione è capace di interferire anche dove ci siano mutazioni diverse da quella classica che viene richiesta. E ancora andando avanti, il trametinib, inibitore selettivo della MAP-Kinasi, della cosiddetta M e K, gli inibitori di CIT non sembrano oggi aver dato grandi risultati se non nel melanoma mucosale metastatico. E poi i target simunologici, ne parliamo dopo. Quindi qui vedete i geni, credo che ieri pomeriggio ne abbia parlato Daniela Massi, per cui non credo che valga la pena di ripetersi troppo. Comunque sicuramente Miraf e MEC sono quelli che hanno dato le maggiori soddisfazioni nella loro interferenza. Qui vedete la solita diapositiva che forse avete visto più o meno uguale, 700 milioni di volte negli ultimi mesi. Per cui questa è la posizione della mutazione che viene considerata critica per i pazienti che possono essere sensibili a questa terapia e sono grosso modo intorno al 50%. Ci sono delle differenze se si prende il tumore primitivo o la metastasi, però comunque sì, a grosso modo, i pazienti sono la metà, le caratteristiche di questi pazienti sono quelle della persona con tanti nevi e quindi quella classicamente è il bersaglio delle nostre campagne di prevenzione. Grazie a tutti.